Siamo a Bologna con il professor Dino Vaira per chiedergli innanzitutto di parlarci dell'elicobacter pylori, cui lui ha dedicato tanto tempo e tanti studi. Un nemico che possiamo definire diffuso, silenzioso, ma in fondo non troppo. Professore, come possiamo individuarlo e poi batterlo? Intanto quello che le dice è giustissimo e molto diffuso. Stiamo parlando della seconda infezione al mondo. La prima infezione al mondo è la carie dei nostri poveri dentini. La seconda infezione è proprio l'elicobacter. Stiamo parlando di 25 milioni di italiani su 60 milioni, quindi il 40%. Quindi dice bene quando dice è molto diffuso. È un vero pericolo ed è insidioso, è un batterio, diciamolo a chi ci ascolta, non è un virus. Quindi non ha nulla a che fare con l'HIV, con l'epatite. Questo è un batterio, quindi un batterio come la Klebsiella, come la Pseudomonas, come le Schiriche, in modo che chi ci ascolta capisce che tipo di famiglia è. E questo batterio è realmente molto pericoloso per il nostro stomaco. Una patologia non altrettanto diffusa come l'elicobacter, ma sicuramente che interessa una quota di popolazione importantissima è l'ipotiroidismo e le patologie tiroidee in generale. Leggo nel suo libro e nei suoi scritti che l'elicobacter può essere un problema, un ostacolo per il successo terapeutico in queste condizioni. Ci vuole spiegare perché? Questa è una bellissima notizia che noi diamo a chi ci ascolta. Intanto vanto italiano perché l'abbiamo tirata fuori noi come italiani, e non io in particolare, ma l'endocrinologia di Roma, che hanno pubblicato questo lavoro bellissimo sulla rivista più importante del mondo, che si pubblica negli Stati Uniti, a Boston, in Massachusetts. La rivista si chiama New England Journal Medicine, quella che noi sogniamo, tutti noi, sogniamo a un premio Nobel e b una rivista, un lavoro su questa prestigiosissima rivista per il dottore del mondo. Quindi non per il gastroenterologo, non per l'endocrinologo. Il motivo per cui faccio questa chiosa è per dire che questa rivista è fisicamente sul desk, quindi sulla scrivania del dottore del Pakistan, del Congo, dell'Asia, dell'Australia e viva Dio anche di Bologna o di Roma. Questo articolo importantissimo che è venuto fuori ha dimostrato che l'elicobacter, mi passi la parola non scientifica, mangia, tra virgolette, la levotirosina. Per cui per i nostri pazienti che soffrono di ipotiroidismo, questa è una notizia mega galattica, nel senso che se i pazienti che hanno ipotiroidismo hanno anche l'elicobacter, tirando via questo batterio dello stomaco, in pratica si diminuisce in maniera sostanziale l'assunzione di questa levotirosina. Quindi questa è veramente l'apice della ricerca del mondo.